Un grande cuore per Tommaso campeggia sui palloncini bianchi e celesti, liberati sul piazzale di Santa Maria di Collemaggio per salutare il piccolo. Una grande folla, compita e commossa, composta da grandi bambini, ha accolto l'arrivo e la partenza di Tommaso. L'ultimo viaggio terreno del piccolo che ora è tra gli angeli, ha detto il cardinale Petrocchi durante l'Omelia. Un destino difficile da accettare per la famiglia, che ha affidato i suoi pensieri e i suoi ringraziamenti alle parole della zia, Giussi. La dolcezza di Tommaso è la cifra che rimane nel cuore di chi lo ha conosciuto. Un bambino capace di consolare gli adulti, è stato detto. Dal pulpito, senza polemiche, si rinnova l'invito ai giornalisti e agli operatori dell'informazione di essere, oltre che attenti alle regole, anche umani, come sottolineato in una nota anche dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, proprio questa mattina, per la tendenza troppo diffusa alla ricerca dello scoop. La zia di Tommaso ha lanciato una riflessione alla platea sull'importanza della scuola che produce intelligenza, sensibilità al bello e competenza. Beni ormai rari in questa società dello spettacolo, ha detto Giussi Fonsi. Una funzione aperta al pubblico, tanti bambini accompagnati dai genitori a portare l'ultimo saluto al piccolo Tommaso, vittima di un destino beffardo che ha messo a lutto un'intera comunità. Non è mancato il pensiero alle altre piccole vittime, ma anche alle famiglie e a chi oggi soffre in silenzio. Il piccolo Tommaso ha lasciato il piazzale di Santa Maria di Collemaggio tra due ali di folla e una scorta della Polizia Municipale a simbolo dell'importanza pubblica del suo sacrificio che serva a migliorare la società.